Che non si spezza mai. Cerco Firenze 77 attraverso Roberto Setti, scuola del Cerco Firenze 77, a cura di VB. In futuro l'uomo sentirà molto di più la reminiscenza di altre vite e riconoscerà per uno slancio interiore chi ha amato in altra precedente condizione. Ciò sarà così diffuso che non desterà meraviglia lo stabilirsi di un rapporto umano così inteso fra tanti che non saranno legati da vincoli di sangue. E come una vera madre può amare contemporaneamente più figli senza nulla togliere all'uno e all'altro, così l'uomo del futuro potrà bastare appagandoli pienamente a più affetti. Il legame creato dall'amore è un legame che non si spezza mai e che nelle future esistenze conduce chi si ama a ritrovarsi in amore. 15 E Non amate solo voi stessi e quando avete compreso ciò e amate gli altri, allora considerate che non dovete amare solo alcuni. Se non siete capaci di altro amore più impersonale, fate dell'amore ai vostri familiari lo scopo della vostra vita e quando sarete riusciti a dedicare tutti voi stessi a loro, ricordate che la vostra vita non può avere quel solo scopo. 55 E Cominciare ad amare da poco e da vicino, 21 F Perché bisogna fare del bene, 77 F Niente va perduto con la morte del corpo fisico, tantomeno un amore. Un amore che può sembrare interrotto è qualcosa che riposa, qualcosa che momentaneamente è in stasi per poi risbocciare, più forte, più completo di prima. 117 F Vedi simpatia istintiva 67 E Vi sono delle creature che appena si vedono, è vero, si amano provano un immediato reciproco affetto, un amore Questo ci dice che c'era già un legame tra loro Eppur non riuscendo la memoria ad arrivare all'origine di questo affetto che magari risale a precedenti incarnazioni tuttavia il sentimento amoroso prorompe, esce fuori 184 G